Il braccio di ferro in atto tra il comune di Campobasso e la regione per Italia e trasferimenti destinati al trasporto pubblico locale ha avuto come unico effetto negativo quella della soppressione dei collegamenti da e per il terminal degli autobus. E il 13 settembre, data di riapertura delle scuole, centinaia di pendolari che arriveranno al Capolinea saranno costretti a raggiungere il centro a piedi. Una situazione denunciata con forza dal Movimento 5 Stelle. Non è possibile arrivare, come lei ricordava, ad una settimana e sentire dichiarazioni da parte dell'assessore alla mobilità del comune che verranno tagliate le corse da e per il terminal. Perché? Perché a sua volta abbiamo avuto dei tagli dalla regione e che quindi l'assessore regionale ha già dichiarato non vorrà coprire anche per quest'anno. Ora, il punto è, c'è una chiara responsabilità da parte del comune di Campobasso che in quattro anni e mezzo non è riuscita a fare un bando di gara valido. Ricordo che la procedura è ancora sospesa e ricordo ancora che se noi avessimo sicuramente una maggiore efficienza potremmo tranquillamente garantire gli stessi chilometri ma chiaramente risparmiando. Ecco, questo forse è uno degli aspetti più delicati in una serie infinita di determine dirigenziali e di delibere che hanno visto il tema del trasporto pubblico da due anni più o meno e mezzo a questa parte al centro dell'azione amministrativa con i risultati che, ripeto, purtroppo stiamo vedendo. Poi c'è il problema irrisolto della situazione in cui si trova il terminal. Ecco, e questo è l'ultimo tema. Visto che si parla appunto di taglio delle corse da e per il terminal è vergognoso che in questi anni non sono riusciti ad aprire il terminal e vi ricordo che l'apertura del terminal avrebbe garantito a questa città anche degli introiti perché, come avviene in tutte le città moderne, una stazione terminal serve appunto a garantire dei servizi e coloro che utilizzano il terminal, quindi in questo caso le aziende di trasporto, pagherebbero un pedaggio per entrare e con quelle risorse, oltre a gestire un servizio, garantiremmo probabilmente anche i chilometri necessari per coprire le tratte che oggi sono state soppresse.